Gentili telespettatori, buona giornata. Proposta in Parlamento. I nuovi magistrati stiano 15 giorni in carcere. E' una vecchia idea che fu di Leonardo Sciascia più di 40 anni fa e ora cerca il consenso delle forze politiche. Perché, vabbè che più di 40 anni fa avevamo i detenuti con la palla al piede. Non so se avete visto il film interpretato da Alberto Sordi, detenuto in attesa di giudizio, e si vede tutto lo splendore negativo delle carceri italiane di quegli anni. Credo che il film sia degli anni 60-70. Forse inizio degli anni 70. Si vedono delle carceri con delle condizioni igieniche che neanche oggi credo nel peggiore delle carceri al mondo ci siano. Palle al piedi, carcere preventivo. Una cosa terrificante. Quindi, quando si parla di cose di 40 anni fa, insomma, c'è da prenderle un po' con le pinze perché 40 anni fa l'Italia era diversa. Si pensava anche in modo diverso. Qual è sta proposta? 15 giorni in carcere da trascorrere obbligatoriamente tra i detenuti. È parte di una proposta ideata dall'Associazione Amici di Leonardo Sciascia, preseduta dall'Avvocata Simona Viola, da presentare in Parlamento e che riguarderebbe tutti i futuri magistrati subito dopo aver vinto il concorso. L'iniziativa è copromossa dall'Associazione Italia Stato di Diritto, preseduta dall'Avvocato Guido Camera, che ha contribuito attivamente a redarre il testo insieme a un gruppo di lavoro di avvocati e docenti universitari. L'idea era già di Leonardo Sciascia, un celebre scrittore siciliano, dove il 7 agosto del 1983 aveva pubblicato questa proposta sul Corriere della Sera. A proposito delle disfunzioni della giustizia italiana, aveva infatti osservato che un rimedio paradossale quanto si vuole sarebbe quello di far fare a ogni magistrato, una volta vinto il concorso, almeno tre giorni di carcere fra i comuni detenuti. Sarebbe indelebile esperienza da suscitare acuta riflessione e doloroso rovello ogni volta che si sta per firmare un mandato di cattura o per stilare una sentenza. Proprio in quegli anni, in quei mesi, in quelle settimane era stato arrestato Enzo Tortora, per quello che di fatto fu l'avvio di un doloroso processo, con poi piena assoluzione. Il 15 settembre 1986, in corte d'appello, poi confermata definitivamente nel 1987, assieme ad altre organizzazioni come la Fondazione Internazionale per la Giustizia, Enzo Tortora. Allora, vediamo al momento la sottoscrizione, ha visto l'adesione di più Europa, ma ci vuole il consenso della maggioranza delle forze politiche. Viene posta l'attenzione del ministro Carlo Nordio, impegnato nella riforma della giustizia. La proposta di legge sciascia-tortora è composta da due articoli destinati ai futuri magistrati. Un tirocinio di 15 giorni di esperienza carceraria e allo studio della letteratura dedicata al ruolo della giustizia e del diritto penitenziario, in modo da comprendere concretamente come vive chi è privato della libertà. Appuntamento, sala stampa della Camera dei Deputati, alle ore 17, oggi. Allora, io quando ho fatto il corso per direttore di supermercati del gruppo GS, tanto tempo fa, per alcuni mesi ho dovuto girare tutti i reparti. Per capire com'era il lavoro, ho fatto tipo 15 giorni in macelleria, 15 giorni in pescheria, 15 giorni nel frutto e verdura, 15 giorni nel reparto scatolame, poi scatolame surgelati, 15 giorni alle casse. Questo serviva per poi non farsi prendere in giro dai dipendenti, sapendo esattamente com'era il lavoro, poi alla fine non ti puoi far prendere in giro. Oppure non fare anche figuracce nel dire, Eh, lavora, guarda che lì non stai facendo niente, invece magari quello sta facendo più del normale. Ecco, serve per capire com'è il lavoro. In questo caso mi sembra una grandissima cavolata, perché il tirocinio in carcere non è che la legge o il giudice deve dire, Ma no, poverino, il carcere, no, è brutto per lui il carcere, non gli do il carcere. La legge deve essere uguale per tutti e la legge non deve avere delle influenze, almeno sulla condanna, soggettive o di altro tipo. Quindi non è che puoi dire, mando il nuovo giudice in carcere 15 giorni, e così magari poi quando deve fare le sentenze non manda nessuno in carcere perché è rimasto traumatizzato. La vedo una sciocchezza questa, una vera e propria sciocchezza. Nessuno è tenuto a fare il tirocinio in carcere per capire cosa vuol dire. E allora al posto del militare facciamo che tutti quelli che fanno 18 anni fanno 15 giorni in carcere, insieme ai detenuti, per capire che bisogna comportarsi bene. Non la condivido questa cosa. Poi naturalmente i giustizialisti o quelli che ce l'hanno con i magistrati, sì, 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 adesso vedrete. Ovviamente è un qualcosa che non passerà mai. È un qualcosa che non passerà mai. Perché non può passare una legge di questo tipo, perché sembrerebbe proprio un'aggressione alla magistratura italiana. Evidentemente. Adesso più Europa subito ci si è buttata, ma credo che magari ci si metteranno anche i 5 Stelle. Sapete che loro su queste cose, onestà, giustizialismo... Però non credo che passerà. Vedremo. Io vi ho dato la notizia. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video, tra una ventina di minuti. Grazie a tutti nuovamente. Ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete, dove trovate video di politica, notizie, fai da te. E poi questi video sono condivisi su alcuni social come X, Facebook, LinkedIn e Triads. Grazie e ci vediamo presto al prossimo video. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.